Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo tutorial. Siccome molti di voi mi iscrivono per richiedermi le parti del grande vasco, allora io oggi vi voglio anticipare il groove di uno dei suoi brani più belli e logicamente più famosi. Sally! Vi ho detto anticiparvi perché a breve voglio pubblicare un tutorial con diversi groove dei suoi brani più belli. A questo proposito vi invito, se avete delle preferenze particolari, a scriverlo qua sotto nei commenti. Datemi un'idea così inseriamo un po' di groove che vi possono interessare, altrimenti vi avragiate e vi prendete quel che viene. Mi raccomando, non fate i timidi. Ok, arriviamo subito alla canzone. Groove particolare è quello introduttivo che si divide su due misure. Allora, la prima mantenendo il charleston in ottavi, troviamo sull'uno gran cassa, primo colpo ottavo puntato e poi altro colpo sull'ultimo sedicesimo. Un quarto di pausa su due, sul tre una pausa del valore di un ottavo puntato e poi ultimo sedicesimo di cassa, sul quattro rullante utilizzando la tecnica del cross stick. Seconda misura di questo groove, sull'uno ripetiamo la stessa figura della misura precedente, pausa di due quarti sul due e sul tre, dopodiché sul quattro un sedicesimo di pausa, cassa sul secondo sedicesimo e rullante, sempre con la tecnica del cross stick, sul secondo ottavo. Mettiamo insieme le due misure e a metronomo vediamo che cosa salta fuori. Io il metronomo lo fisserei a 100 bpm. Lo stesso groove si ripete nella prima strofa, mentre nella seconda strofa il groove principalmente sono due misure abbastanza simili che si ripetono. Le vediamo tutte e due, dopodiché vi invito magari quando suonate il brano a variare, a ascoltare bene magari anche quello che succede e a inserire quello che secondo voi suona meglio. Ricordate, ottimo riferimento per noi batteristi è la linea di basso. Allora, prima misura, sempre Charleston in ottavi, sull'uno una figura di cassa sempre come prima, quindi ottavo puntato e ultimo sedicesimo, sul due, primo ottavo di pausa, secondo di cassa, sul tre, rullante. Anche qui ci sono delle parti dove il rullante viene suonato pieno, mentre in alcune parti viene utilizzato sempre il cross stick. Seconda misura, cambia solo la cassa sull'uno che suonerà sul battere. Anche qui adesso le metteremo a metronomo e lavoreremo alternando le due misure. Anche qui si puòưởng renderi di loro la cassa. per quanto riguarda i fill diciamo che in questo brano il grande col aiuta ha dovuto lasciare come sempre la sua impronta tra tutti questi io ne ho preso uno in particolare che potrebbe essere un buon spunto per mettere alla prova la vostra creatività guardiamolo nel dettaglio partiamo con primo ottavo sull'ullante sul secondo ottavo abbiamo un sedicesimo ancora sull'ullante e il secondo sedicesimo sul ton sul due troviamo pausa di un ottavo e secondo ottavo sull'ullante con un bel flam sul tre ottavo puntato sul rullante e ultimo sedicesimo in cassa sul quattro quattro sedicesimi li ho messi in ordine rullante, primo ton, secondo ton, timpano altrimenti potete fare anche rullante, primo ton e due colpi di timpano vediamo ora sul tempo come suona questo feel questo un po' le parti principali e oggi abbiamo direi aggiunto anche un feel quindi potete sbizzarrirli ancora più del solito non vi resta che iniziare a lavorare su questa canzone mi raccomando scaricate come sempre il pdf che trovate qui sotto e se vi è piaciuto questo video mettete un bel like e magari se volete fate anche qualche proposta per i prossimi tutorial ricordatevi se non l'avete già fatto di iscrivervi al canale e attivare le notifiche così sarete sempre aggiornati su tutti i video che pubblicherò per questo tutorial è tutto mi raccomando ci vediamo prestissimo ciao e buon gru grazie a tutti